Viene assegnato ai domiciliari, ma la famiglia lo spedisce in carcere. E' la singolare storia di Davide Coriuclo, 22enne gallipolino, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia della città ionica per aver commesso un furto ai danni di un'anziana. Il giovane, insieme ad un complice 19enne, si era introdotto nell'abitazione della donna nelle vicinanze di via Catania a Gallipoli. Dopo aver messo a soccuadro la camera da letto, sono riuscita ad impossessarsi di un portamonete contenente 200 euro, mentre l'anziana, che dormiva, non si accorta di nulla. Gli agenti hanno poi sorpreso i due ladruncoli in un bar di Vialecce, arrestandoli. Per Coriuclo sono scattati i domiciliari in attesa dell'udienza in tribunale, ma i familiari, forse per punire il giovane, lo hanno rifiutato obbligando le forze dell'ordine a portarlo in carcere. Un monito che forse lo inibirà nel compiere nuovamente dalle gesti in futuro.